Ciao a tutti, oggi vedremo un altro video di ginnastica propedeutica, quindi adatta ai bambini della scuola materna dai 3 ai 5 anni per approcciarsi alla ginnastica artistica. Partiamo con le andature. Giraffa Pinguino Cammino sui talloni Rana Orso Corri alzano il braccio gambo opposto Il cagnolino si trasforma in elefante Il cagnolo Pagno 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 pulcino saltato accosciata palloni uniti e salto usando bene le cannughe coniglietto stendo le gambe dietro passiamo ora a fare un po' di acrobatica ripeteremo ogni elemento tre volte capovolta avanti appoggi le mani piego bene la testa appoggi la nuca rotolo e arrivi in piedi per farla ancora più facilitata inizio a impararla con le gambe divaricate appoggio le mani dopo un'indicazione mi guardo il siderino e rotolo candela cerco l'allineamento col bacino via giù per impararla verticale partiamo dalla propedeutica e quindi dal movimento in questo modo riesco ad imparare a stare in spinta sulle spalle e a mantenere le braccia ben distese in condizioni facilitate una gamba davanti all'altra lancio e porto alla verticale solo una gamba ora proviamo a farla verticale completa ruota braccio in alto lungo le orecchie affondo grande ora eseguo la ruota in quattro tempi cosa vuol dire? tempo uno appoggio la prima mano tempo due appoggio la seconda mano tempo tre sono passata da verticale a gambe divericate e appoggio il primo piede tempo quattro appoggio il secondo piede per far capire ai bambini l'appoggio in quattro tempi posso utilizzare dei cerchi in ogni cerchio devo appoggiare o una mano o un piede ponte o un piede Grazie a tutti. Esercizio di mobilità. Farfallina. Gambi divaricate. Schiacciata. Unisco le gambe. Schiacciata. Foca. Sasso. Il video di oggi è terminato. Ciao ciao. Ciao.